Amici ma soprattutto amiche benvenuti alla seconda imprevedibile puntata dei Trash Talkers Io sono Lollo, Stefano, Gios La scorsa settimana avevamo detto questo Il giocatore sta per andare a strappare un contratto incredibile per la prossima stagione E non sa né leggere né scrivere ma soprattutto non sa giocare a basket Questa settimana è successo questo Prendo tutte le mie responsabilità, l'ho lanciato io nel grande basket Ormai a Sunrise Side, nostra guida spirituale Santo subito Possiamo subito iniziare allora con le 5 notizie della settimana NBA Notizia numero 1 E preparare uno stack Con le grafici ma Per oggi non che posso lo faccio La prima notizia della settimana parecchio interessante secondo me Atlanta Hawks, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks Che tolgono i pesi dalla preparazione e si allenano in un modo nuovo Fanno yoga e pilates E poi giocano con la sua bestia Ma che cazzo dite? Sono le tre squadre più in forma del momento Io ridevo perché immaginavo Bogut nella posizione della gru ad allenamento Partiti con la notiziona POM POM Questo era per le quote rosa, sai, pilates, yoga almeno Notizia numero 2 Un braccio Notizia Bravo Notizia numero 2 a proposito di BOOM Notiziona, il 3 point contest Sono stati annunciati ufficialmente i partecipanti Abbiamo a Ovest Curry Thompson, Redick, Matthews, Bellinelli e il Barba Arden A Est ci aggiungiamo ancora Irving e Kyle Korn Ce l'abbiamo fatta! Gran 3 point contest, dai Più bello della storia del 3 point contest Fotte qualcosa del 3 point contest Gli 8 migliori della Lega probabilmente A parte Rashwell Butler Quando arrivano in campo fanno dire Barba, dite me che schifo! Battuta pan politica, li corre! Tizio, a fare una cosa, va, metti gli occhiali perché sei di nuovo alle pezze proprio Belli, belli Bella personalità Notizia numero 3 Notizia numero 3, facciamo i seri perché forse la notizia più interessante è l'unica vera notizia dei Trash Talkers questa settimana Un gran bel articolo uscito su Players Tribune Bellissimo sito, consigliato, ve lo mettiamo in descrizione Articolo scritto da Blake Griffin Attenzione, Blake Griffin Ok, notizia numero 1 Sa scrivere, sa scrivere bene E soprattutto ci spiega come sia stato motivato negli anni ad ampliare il suo range di tiro E a modificare la sua meccanica di tiro Tirato qualcosa come? 250.000 jump shot Cioè, gli haters hanno molto bene Mi piace parlare eh Bravo, bravo Blake Soprattutto perché da giocatore più odiato della Lega A cui succedevano robe così E' diventato una faccia buona, una faccia piacevole Quella faccia lì Cioè, lui è la rappresentazione delle mie global game Mamma irlandese, papà itiano Peggio ci sono, lo so, Ie Ie Brazzo Tolto il giornalismo, notizia numero 4 Notizia numero 4 51, rumorosissimi punti di Steph Curry Che non ci sta ai 37 di Klay Thompson Tocca a me questa settimana 51 lui, 45 Westbrook Sì, punto La notizia che nessuno dei due li ha fatti contro il sacramento Kings Che si sa che dipendono così Mi sa che non vincerà nessuno il difensore dell'Angelo Però All-Star Game Pagato 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 Notizia numero 5 La notizia numero 5 è che l'NBA è la Lega con il più alto agglomerato di talento nella storia del basket E anche la Lega in cui c'è il più grande agglomerato di ignoranza sulla faccia del pianeta Nella top, non lo so, 3, dei giocatori più ignoranti della settimana troviamo Swaggy P con la seguente dichiarazione Questo mese ho tirato male, quindi penso che il prossimo sarò più romantico Più romantico? Più romantico Alla numero 2 troviamo la storia americana della settimana Yogi Gutierrez che fa il comeback firmato dai Milwaukee Bucks torna alla corte di Jason Kidd dopo l'anno scorso in Eri Cioè questo non mangiava Questo qui giocava con le mani blu affetto da mille problemi, l'anemia Una partita si trova con una mano blu, si mette a tirare di sinistro, era anemico, non aveva il gas in casa, mangiava uova crude Alla high school lo tacciavano di essere molto più grande di quello che era Tipo un Minala, un Eriberto moderno C'è arrivato Ed è tornato E grazie a Jason che ce l'ha firmato E buona fortuna Il terzo giocatore Vai È tutto tuo, guarda Beh, secondo me c'è il centro più dominante che c'è di sinistro Marching Gortat Marching Gortat che non avendo fatto ottime prestazioni ultimamente dichiara Mi raso i capelli Salsone rovesciato Marching Gortat che è stato questo Però un momento stizza, non ci dimentichiamo che ha questa fidanzata Ragazzi anche questa settimana incredibilmente siamo arrivati al momento dello scavino Non sembrava possibile arrivare alla seconda puntata illesi Buona settimana ci vediamo alla prossima Schiavino per tutti Ciao ciao Grazie Baruch